Musica Salve a tutti ragazzi, sono io, Legolasal90 E questo oggi vi do il benvenuto a una clip un po' diversa dal solito Un po' di fail, una piccola raccolta con alcuni momenti piuttosto divertenti Iniziamo con la prima clip Ok, mettiamoci qua adesso Ehi, ma che cazzo stai facendo in quell'angolino? Non hai visto quello, coglione? Ah, chi? Che cazzo è successo? Non l'ho visto in letto io Eh, eh, sì, che fortuna, sono qui nella seconda occasione Eh sì, eh no, buon uomo, si potrebbe avvicinare a bisogno di una fiala Eh grazie buon uomo, venga qua, eh sì sì, sono qua sfragliata Stia tranquillo, non c'è niente di pericoloso Molto gentile, grazie Ancora signorina, arrivo Ok, ciao, mi dimentiché Oh porca, oh porca puttana Ok, ma mi prendo gli appoggiamenti Appiazzo la clima, controllo la zona E non può succedermi niente Perfetto Eh sì sì, scappo bastardo, sì E no, perché ne c'ho i tuoi appoggiamenti, strunzo Ma dove cacchio sono questi appoggiamenti Oh sì, ma torretta Sam, la mia salvezza Muori di merda Ma, ma che diavolo è successo, ho piazzato la torretta, vuoi Non vedi questa disgrazia da pezzo di Hamilton, oh Ma dimmi te La pura mia vendetta, sarà l'ultima cosa che faccio Mi fa perdere vendetta, tremenda vendetta Porcaramo qua Muori torretta, muori Ok, prossima castra Oh, ma torretta Ma non me lecchi, mi schiazza Oh, sono troppo furbo per tu Guarda qua, eh Non me lecchi, eh Prodiamoci, se c'è le balle, provoci Oh, schiazza, schiazza Oh, te lo schiappa Oh, heehehehe! Oh, haiheheh! Oh, haiheh! Grazie.